Uno strumento pensato per aiutare a proteggere le donne, ma che mira soprattutto a rieducare gli uomini già dopo il primo schiaffo, per evitare che possano arrivare ad altre azioni ben più gravi. Invece di ricorrere alle case rifugio che proteggono le donne maltrattate, arrivano gli alloggi per soli uomini che commettono abusi domestici, mettendo così al sicuro il resto della famiglia, specie in presenza di minori. È questo l'obiettivo del protocollo Zeus, nome che rievoca il primo caso di maltrattamento nella mitologia greca, già sottoscritto in altre 30 province, firmato dal questore Raffaele Clemente e dal sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, che ora comprende anche la provincia di Pesaro e Urbino. Il protocollo Zeus viene attivato nei confronti di un marito compagno nel momento in cui si rende protagonista di un comportamento che potrebbe sfociare in violenza, ma non è ancora considerato un reato. Il questore emette un ammonimento per interrompere qualsiasi forma di aggressione, invitandolo a seguire un percorso di recupero presso un centro specializzato di contrasto alla violenza. Dal 2018 a oggi, grazie al protocollo Zeus, su un campione di 300 uomini violenti, il 90% non ha più manifestato forme di violenza e la percentuale di recidive di chi commette violenze domestiche è passata dal 10% del 2018 al 7% del 2021. Un calo importante dovuto soprattutto all'attività di recupero delle persone che hanno commesso abusi. Nel momento in cui si interviene in un caso di violenza domestica, in cosa consiste esattamente l'ammonimento? L'ammonimento è una misura di prevenzione, un provvedimento amministrativo che emette il questore, che in sostanza mette in guardia l'autore di condotte che possono essere di percosse, di grida all'interno dell'ambito familiare, che comunque sia non integrano reati procedibili d'ufficio, nel qual caso non essere obbligati a intervenire interessando l'autorità giudiziaria. L'autore di queste condotte viene ammonito, viene avvertito di cambiare immediatamente condotta perché altrimenti incorre nelle sanzioni di tipo penale. L'ammonito con il provvedimento del questore viene anche invitato ad accedere a dei servizi forniti dagli enti territoriali per confrontarsi su questa sua problematica di aggressività fondamentalmente al fine di avvantaggiare una soluzione diciamo serena e pacifica di un conflitto intrafamiliare. È la persona che subisce la violenza domestica che deve chiedere l'ammonimento? Non solo la persona che subisce queste condotte lo può richiedere ma anche è un'iniziativa del questore. È il classico caso in cui la volante magari interviene per una dita in famiglia perché i vicini di casa sentono delle grida e constatano che all'interno c'è un conflitto e può attivare il questore valutando la situazione di rilievo e di interesse per le missioni di un ammonimento. Le donne vittime di violenza generalmente hanno paura a denunciare. In questo caso il protocollo Zeus può aiutare le vittime a superare questo timore? Allora innanzitutto l'invito a tutte le donne di non avere paura perché la paura poi fa le vittime. L'ufficio minore e l'ufficio anticrimine delle questure è pronto a ricevere donne, ad ascoltarle e a indirizzarle verso anche i sistemi territoriali pronte ad ascoltarle in relazione alle loro problematiche. Per quanto riguarda il protocollo Zeus è una risposta ulteriore sul lato maschile, ovvero sia abbiamo delle strutture che sono pronte ad ascoltare gli uomini maltrattanti cosiddetti, i quali ad esempio se ammoniti vengono invitati presso queste strutture per avviarsi a dei colloqui, tutto questo al fine di comprendere la genesi del conflitto e di dare delle strade per una soluzione pacifica. All'interno poi del protocollo Zeus c'è anche una parte che è prevista di un finanziamento regionale per la creazione di strutture che accolgano gli uomini maltrattanti perché in realtà andiamo a sradicare la moglie con i figli che sono vittime, quando in realtà risulterebbe più facile allontanare l'uomo, l'uomo che molte volte non sa dove appoggiarsi, la creazione di queste strutture darebbe la possibilità di agevolare l'allontanamento del così maltrattante maschio.